Salve ragazzi, benvenuti in questa lezione di disegno tecnico. Oggi realizzeremo la proiezione ortogonale di un pentagono inclinato rispetto a PV. Ne approfitto per farvi vedere come utilizzare SketchUp, il programma che avete a disposizione anche voi nella G Suite. Vi ricordo per accedere a SketchUp, una volta che avete effettuato l'accesso con JDK Education, con l'account, cliccare sui nuovi puntini, andare in basso e cliccare su SketchUp for School. Ok, ho aperto SketchUp, disegno il pentagono. L'esercizio che dovremo realizzare oggi sono le proiezioni ortogonali di un pentagono che ha un lato poggiato su PV, quindi un lato sarà poggiato su PV, il lato dovrà essere parallelo all'asse delle X, ed il pentagono dovrà, la superficie del pentagono dovrà essere inclinata di 30 gradi, X gradi rispetto a PV. Come inizio? Inizio a disegnare il pentagono, scelgo poligono, imposto i lati, devo cliccare soltanto con 5 e do invio, e inizio a disegnare il pentagono. Ok, vedete? È molto semplice, ho già il pentagono. SketchUp lavora con superfici, quindi voi automaticamente troverete una superficie, ve ne accorgerete perché cliccando sulla superficie interna appare tutta puntinata. Il pentagono per adesso è poggiato su PV. Andiamo a vedere, ve ne accorgete. Non è distante da PV, ma è appoggiato su PV. Questa che vedete qui sarà la distanza da PV. Se io vi dicessi che il lato AB, AB, dista e parallelo all'asse delle X, lo vedete, e dista dall'asse delle X 2 cm, questa distanza dovrà essere di 2 cm. Inclinazione, seleziono, ruoto, molto semplicemente, con i tasti direzione, cambio il goniometro, ed imposto una rotazione. La rotazione, facciamo, ok, 60 gradi rispetto a PV. Il pentagono adesso è ruotato. Cambio punto di vista, vi accorgete che adesso si forma un angolo, questo da qui a qui. Quindi, le proiezioni ortogonali di questa figura, andiamo a vedere quali sono, perché questa è la figura che vi ho detto io. Pentagono, il lato dovrà essere sempre appoggiato a PV, e me ne accorgo perché tocca PV. La superficie è inclinata di 30 gradi, di 60 gradi in questo caso, rispetto a PV. Vado a vedere le viste, proiezione su PO, ecco, cosa vedo? Vedo un pentagono, questa volta non è un pentagono regolare, lo vedete, questo lato è più lungo rispetto a questo, e me ne accorgo perché rappresenta, è un pentagono più schiacciato rispetto a un pentagono vero e proprio. Quindi, questa è la proiezione su PO. Andiamo a vedere la proiezione su PV. Anche in questo caso vedrò un pentagono irregolare, eccolo. La proiezione su PL, vedrò semplicemente un segmento inclinato di 30 gradi, scusatemi, 60 gradi, ho impostato, 60 gradi rispetto a PV. Andiamo, questo è quello che accade nello spazio. Come lo realizzo nelle proiezioni ortogonali? Quindi, questo è il mio piano di proiezione, PO, PV, PL. Disegno un pentagono. Il pentagono, come ho detto, deve essere poggiato su PV, un lato deve essere poggiato su PV, quindi, lui inizia a disegnare un pentagono che sia appoggiato tutto su PV. Quindi, questo è completamente appoggiato su PV. Quindi, io so fare la proiezione su PV, vedo il pentagono nelle sue dimensioni originali. Questa sarà la distanza del lato AB dall'asse delle X. Questo sarà il lato parallelo all'asse delle X. Riporto i punti. Questi. Riporto questo punto sull'asse delle X. 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 Come potete notare, ho realizzato la proiezione ortogonale di un pentagono. Cancello gli elementi che non mi interessano. Proiezione ortogonale di un pentagono appoggiato su PV. Appoggiato su PV. Infatti, questa è la proiezione ortogonale del pentagono. Questo è il lato. È quello che vedo dall'alto. Questo è quello che vedo su PL. Quindi, se questo è A secondo, A primo, e questo A terzo. B secondo, questo è B primo, questo è B terzo. C secondo, C primo, C terzo. Di secondo, non l'ho riportato, ora lo riporto. Di, eccolo. Dicevo, di secondo, di primo, di terzo. E secondo, e primo, e terzo. Questa è una delle proiezioni ortogonali che abbiamo già fatto nel passato. Ora vado a tracciare una semirretta che parte da qui ed ha un'inclinazione di 30 gradi. Eccola. Quindi questa semirretta rappresenterà l'inclinazione del pentagono. Questo sarà l'angolo che è di inclinazione del pentagono. Questo qui deve restare appoggiato su PV. Infatti vedete che A terzo, B terzo resta in questa posizione. Quelli che cambiano come posizione sono questo e questo. Come faccio a determinare? Traccio un arco, questo punto, il compasso qui, e riporto questo punto sulla semirretta. Faccio la stessa cosa con questo punto e lo riporto qui. Ok. Come avrete notato, che cosa è successo? Che C secondo ed E secondo, che prima erano qui, si sono spostati in questa posizione. Ecco dove li troviamo adesso. Vado a zoomare un po' di più. ecco, C secondo ed E secondo, C terzo ed E terzo, C terzo ed E terzo adesso si troveranno qui. E di terzo, che prima si trovava in questa posizione, in questo punto, adesso si troverà in questo punto. Su PL ho completato la proiezione ortogonale perché la proiezione è questo segmento che sto evidenziando. andiamo a trovare la proiezione ortogonale su PV del pentagono ruotato. Di terzo è questo punto. Prima, di secondo era qui. Però adesso vedete che di terzo si è abbassato. Dove? In corrispondenza, eccolo qui. Quindi, questo punto, quello che ho evidenziato adesso, dove trovate il mouse, è di secondo. Vediamo C secondo, dove, come lo troviamo. Attenti, C terzo è qui. In corrispondenza, attenti a non sbagliare, di C secondo. Quindi, qui. Non qui. In questo punto. E terzo si trova qui, E terzo prima si trovava in questa posizione, vado a determinare E secondo. E secondo era qui, adesso E secondo si troverà qui, in questo punto, dove si trova la matita. Eccolo. Fatto questo, A, B, quindi A terzo e B terzo, non si sono spostati, vado a determinare il nuovo pentagono ruotato. Questo è il primo punto, questo è l'altro punto, questo è l'altro punto, questo è l'altro punto, e questo lo unisco poi con A secondo. Quello che vedete qui in basso è il pentagono ruotato. A questo punto, voi non lo fate, per semplicità, io cancello tutto quello che non mi interessa e lascio soltanto il pentagono ruotato. Eccolo qui. Ora andiamo a determinare la proiezione su P, su PO. Andiamo a determinare la proiezione su PO. Fincello, altre linee che non mi interessano. Proiezione su PO. A primo si trova qui, B primo si trova qui. La posizione non è cambiata, loro non si spostano. Andiamo a vedere dove trovare invece C. C si trova in questo punto, C secondo. Vediamo dove si trovava C primo. C primo si trovava qui. ma adesso guardate C ruoto C terzo si trova qui. Quindi per trovare C primo riporto C sull'asse delle Y e dall'asse delle Y fino ad intersecare la linea che parte da C secondo. Quindi C primo sarà in questo punto. E secondo E terzo si trova qui, porto E terzo sull'asse delle Y prolungo in corrispondenza D e secondo. L'ultimo punto che resta da determinare è il punto D. D lo trovate qui, D terzo adesso è qui, lo abbasso, ruoto e riporto in corrispondenza di D secondo. Eccolo qui. Ho tutti i punti perché questo è A primo, questo è B primo, questo è C primo, E primo, scusatemi, D primo, E primo. li unisco, unisco B primo con C primo, unisco C primo con D primo, unisco D primo con E primo e unisco E primo con B primo. La proiezione del pentagono è determinata, quella che vedete qui in basso. Cancello le superfici, ecco la proiezione del pentagono regolare con un lato appoggiato su PV, la superficie del pentagono è inclinata di X gradi, quello che sarà, rispetto a PV. Vediamo come. Questa è la proiezione su PL, questa è la proiezione su PV, questa è la proiezione su PO. Ok, spero di essere stato chiaro, per qualsiasi dubbio chiedete come commento. Arrivederci. per qualsiasi dubbio